Chiesa che nasci dalla croce, dal fianco aperto del Signore, dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di Cristo nella santità. Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta, vivificata dall'amore, resa feconda nella carità. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. Nella sua luce noi cammineremo, chiesa redenta dalla sua amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi, festa di San Giuseppe Lavoratore, è anche la giornata dei lavoratori e preghiamo per tutti i lavoratori, perché nessuna persona in questo tempo difficile che stiamo vivendo il lavoro non manchi e che tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo. Così ci ha detto Papa Francesco questa mattina nella messa che ha celebrato a Santa Marta. In questa giornata voglio, insieme con tutti voi, ricordare il giorno della mia ordinazione sacerdotale avvenuta in questo santuario 38 anni fa. Insieme con tutti voi rendo grazie al Signore per il dono del sacerdotio. E insieme con Maria, iniziando questo mese a lei dedicato, vogliamo magnificare le meraviglie che il Signore ha compiuto per ciascuno di noi. Un saluto particolare a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la televisione, attraverso gli altri social. Ecco, vogliamo chiedere umilmente perdono dei nostri peccati per celebrare degnamente questa Eucaristia. Confesso a Dio Onipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca la vita eterna. Signore, pietà! Cristo, pietà! Signore, pietà! Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onipotente, Signore, Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbia fietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbia fietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella Tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, fa che per l'intercessione e l'esempio di San Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiocatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona e fu sera e fu mattina sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto creando. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Rendi salda Signore l'opera delle nostre mani Rendi salda Signore l'opera delle nostre mani Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati da sempre e per sempre tu sei, oh Dio Rendi salda Signore l'opera delle nostre mani Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici Ritornate figli dell'uomo Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato come un turno di veglia nella notte Rendi salda Signore l'opera delle nostre mani Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio Ritorna Signore fino a quando abbi pietà dei tuoi servi Rendi salda Signore l'opera delle nostre mani Saziaci al mattino con il tuo amore Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli Rendi salda Signore l'opera delle nostre mani Alleluia 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 Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, e la gente rimaneva stupita e diceva, Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname, e sua madre non si chiama Maria, e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle, non stanno tutte da noi. Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Nella festa che stiamo celebrando oggi di San Giuseppe, lavoratore, la liturgia della parola privilegia, soprattutto nella prima lettura, nel Libro della Genesi, quell'aspetto importante della creazione. Dio creo, Dio creatore di tutte le cose, creatore dell'uomo e della donna. E allora, ecco, vediamo che in questo modo, attraverso la creazione, Dio chiama l'uomo a collaborare con Lui. Tutto quanto il Signore ha creato per ciascuno di noi, innanzitutto è un dono. Questo nostro mondo è un dono per ciascuno di noi, dobbiamo veramente accoglierlo come tale, nella nostra vita. E attraverso, ecco, la creazione, si inserisce anche il discorso del lavoro. Ecco, Dio che crea tutto le realtà di questo mondo e alla fine, dice, il settimo giorno, quindi si riposò. Allora, ecco il lavoro. Ecco, questa realtà così importante e fondamentale, come diceva all'inizio della Messa, è con pensiero particolare, ecco, per il mondo del lavoro. Oggi, in questo periodo, ecco, particolarmente coinvolto, ecco, proprio per la mancanza di lavoro, tante situazioni difficili che già conosciamo. Allora, perché il lavoro? Lo uniamo, ecco, alla creazione. Perché attraverso il lavoro, l'uomo contribuisce a completare l'opera della creazione. Attraverso tutto quello che noi facciamo ogni giorno, è come se noi dessimo una mano a Dio per portare a compimento quello che Lui ha iniziato. Perché Lui inizia tutte le cose, no? Poi affida a noi un compito. Affida a noi, ecco, qualcosa di importante, perché ciascuno di noi possa completarlo. E allora, ecco, in questo modo, tutti quanti noi ci sentiamo responsabili di questa creazione. Ognuno di noi si sente responsabile della propria vita. Non solo perché il Signore ha affidato a noi un lavoro, ma dobbiamo anche preoccuparci di quelli che non ce l'hanno, perché il lavoro dona dignità alla persona. Ecco perché è importante che ci sia. E allora, ecco, vediamo che in questo modo, attraverso questo completamento dell'opera della creazione, noi diventiamo simili a Dio. Ecco, forse non ci pensiamo a tutto questo. Noi diventiamo simili a Dio. Perché? Perché io contribuisco a rendere bello questa creazione, a completare quello che di bello il Signore aveva iniziato. Allora io come sacerdote, ecco che ricordo oggi il mio anniversario di sacerdote, il Signore mi ha chiamato a lavorare, come diciamo, no? Usando l'espressione del Vangelo, nella sua vigna, nella famiglia. Il papà, la mamma, lavorano per il bene della famiglia, per rendere bella la propria famiglia. E tutti quanti nella società, nel mondo della scuola, dell'industria, dappertutto, ecco, ognuno di noi, ecco, rende bella la realtà in cui vive. E noi ci dobbiamo sentire responsabili di questo. Dobbiamo sentire in noi, ecco, non soltanto la responsabilità, perché contribuiamo anche attraverso il lavoro ad avere il sostentamento, non è solo quello, non si lavora solo per il sostentamento, è fondamentale, certamente. Ma rendiamo più bello questo nostro mondo e lo lasciamo agli altri che verranno dopo di noi. Allora, ecco, in questo modo, ecco, il Signore, ecco, ci chiama a lavorare, quindi in questo nostro mondo. Ora, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, come Gesù vive in questo nostro mondo? Come si presenta? In un certo senso, la sua figura scandalizza, usiamo proprio questa espressione anche del Vangelo, scandalizza tutti quelli che lo circondano, conoscevano chi era Gesù. Infatti, dicono, non è il figlio del carpentiere, sua madre non si chiama Maria, conosciamo i suoi parenti. In un certo senso, chi è questo che parla in un certo modo? Parla con autorità, no? Perché questo si sottolinea particolarmente nel Vangelo, che Gesù parla con autorità. Perché? Che cosa vuol dire parlare con autorità? Perché è coerente con quello che insegna. Perché l'autorità è questo. Quando uno, ecco, è coerente con quello che vuole trasmettere, e Gesù è una persona coerente, ecco perché parla in questo modo. Chi è questo che parla? Lo conosciamo, è un falegnano. Come può dire di essere il figlio di Dio? E qui, ecco, nasce, ecco, sempre un po' il contrasto, no? Tra Gesù, quindi, e quella della sua gente. Perché tutti quanti si aspettavano un figlio di Dio totalmente diverso da come poi si è manifestato. E questo ha creato uno scandalo. Ecco, guardate, il Vangelo usa queste espressioni molto forti, no? Se noi conosciamo chi è la persona, conosciamo la vita, come usiamo a dire, conosciamo la vita, morte e miracoli, no? Certamente non c'è molto da aspettarsi. E chi è allora questo che parla in questo modo? Quindi la logica di Gesù è totalmente diversa dalla nostra logica. perché noi cerchiamo sempre in questo nostro mondo di seguire una strada dove, ecco, la logica del mondo qual è? Quella dell'apparire, del rendersi grandi, importanti. E Gesù non sceglie questa strada. Ecco perché il suo comportamento crea uno scandalo. Uno scandalo c'è. Tutti si meravigliano. Perché non è un comportamento, tra virgolette, normale, quello che usa Gesù Cristo. Allora, ecco, vediamo che la logica di Dio è la logica della normalità. Cioè Gesù segue la vita ordinaria per rendere questa vita ordinaria, tra virgolette, straordinaria. Cioè le cose semplici di ogni giorno, quello che noi facciamo ogni giorno, i nostri rapporti, di incontrare gli altri, lo stare con gli altri, nel lavoro, dove ci troviamo, sembrano cose banali. Però, ecco, dobbiamo riscoprire e forse questo è il momento, proprio in questo tempo particolare, riscoprire e valorizzare quei momenti che possono sembrare banali. A che cosa serve? Ecco, il saluto, a che cosa serve comportarsi in un certo modo, a che cosa serve riscoprire il senso della famiglia, il senso anche di bisogno dello stare in chiesa, del venire in chiesa, non si può andare in chiesa, non si può incontrare il Signore. Allora valorizziamo questi momenti. Come li valorizziamo? Perché mettiamo delle cornici? No, valorizziamo questi momenti perché noi li rendiamo più belli. Li rendiamo più belli attraverso tutto quello che noi facciamo. e allora siamo chiamati oggi, proprio sull'esempio di Gesù, il figlio del carpentiere, a seguire la via ordinaria. Io come sacerdote, noi e tutti i miei confratelli, tutti quanti, ciascuno di noi, ecco, creare questa mentalità, creare queste condizioni perché il mondo sia più meglio. E allora anche quest'anno, che è la festa del Santissimo Crocifisso che iniziamo a celebrare questa sera, ecco, la viviamo in una maniera diversa. Sì, diciamo, è un peccato, ecco, non celebrarla come gli altri anni, però forse anche questo è un segno attraverso il quale il Signore vuole farci riscoprire il vero senso della festa, il vero senso dello stare con Lui, il vero senso del rendere gloria a Lui in una maniera diversa, con un senso diverso. Ecco, che sia veramente una festa dello Spirito. Ed è questo veramente, ecco, la pensiero, ecco, che questa sera, ecco, il Signore, attraverso la mia persona, ecco, vuole comunicare a ciascuno di voi. Rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo. che non ha distegnato di essere gamato il figlio del falegname e con la sua opera ha elevato una nuova dignità il lavoro dell'uomo. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, perché sull'esempio della vita di San Giuseppe sappia essere attenta alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori e a sua volta testimoni lo stile e la serietà del lavoro nella sua missione nel mondo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i governanti, perché illuminati dallo Spirito sappiano creare occasioni lavorative e di vero impegno, favorendo il bene di tutti gli uomini e valorizzando le loro attitudini, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per coloro che sono in difficoltà lavorative, per mancanza di occupazione o per gravi infermità, perché non perdano mai la speranza in un futuro migliore, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Nell'anniversario sacerdotale di Don Pinuccio preghiamo e ringraziamo il Signore per tutti i sacerdoti abitati dalla parola del Vangelo crescano nella conformazione a Cristo come ministri generosi e miti del popolo eletto. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i seminaristi e i giovani in discernimento vocazionale, colgano nella testimonianza sacerdotale l'audacia e il coraggio, la fedeltà e la mansuetutine necessari a scegliere il Signore crocifisso e risorto. Come pastore e guida di tutti i cuori, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Nel nostro cuore rivolgiamo il Signore e le preghiere personali. Padre Santo, che hai rivelato a San Giuseppe il mistero del tuo figlio e lo hai affidato alla sua guida e custodia, donaci di poter sempre più comprendere il mistero della sua incarnazione. Per Cristo nostro Signore. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità, Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani, ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi, tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, oggi vieni in questo vino, e ti doni per la vita mia, e sarò pane, e sarò vino, e sarò vino nella mia vita, nella mia vita, nelle tue mani, ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te. Un sacrificio gradito a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, scelta dalle mie mani, il suo sacrificio, all'ode gloria del suo nome, per il bene nostro, e giunta la sua casa a Gesù. O Dio, fonte di ogni bene, guarda i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Giuseppe, e fate la nostra umile offerta, diventi pegno della tua protezione. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 Santo è il Signore, Dio dell'universo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, 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 Nell'alto dei cieli, Benedetto con noi che viene nel nome del Signore, Hosanna, 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 Nell'alto dei cieli. Padre veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e bevetevi tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna De Anza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Rolando, Assunta, Elisa e Salvatore che hai chiamati a te da questa vita. Ricordati dei nostri fratelli Maria, Giovanni e Vita che si sono addormentati nella speranza della Ressurrezione. Ricordati anche del nostro fratello Lorenzo che si affida alla Tua Misericordia. Ammetti tutti i devulti a godere la luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio San Giuseppe suo Sposo gli Apostoli San Sebastiano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la Tua gloria. Per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli ammè 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 Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Liberaci oh Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la Tua volontà Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi in Cristo che ci ha resi tutti i fratelli con la sua croce il Signore conceda a tutti il dono della pace Agnello di Dio che togli i peccati del mondo agnello di Dio che togli i peccati del mondo agnello di Dio che togli i peccati del mondo dona la pace Beati gli invitati alla cena del Signore ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Signore non sono degno di partecipare alla Tua menza ma di soltanto una parola io sarò salvato Signore credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia poiché ora non posso riceverti sacramentalmente vieni almeno spiritualmente nel mio cuore come già venuto io ti abbraccio e mi unisco tutto a te non permettere che abbia mai a separarmi da te sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta la vera gioia nasce nella pace la vera gioia non consuma non consuma il cuore e come fuoco con il suo calore e dona vita quando il cuore muore la vera gioia costruisce il mondo e porta luce e porta luce nell'oscurità la vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non potrà fermarla la vera gioia le sue ali splendono di grazia dono di Cristo e della sua salvezza e tu ti unisce come in un abbraccio e tu ti amano nella carità preghiamo o Dio o Dio nostro Padre che ci hai appolti alla tua mensa fa che nella nostra vita sull'esempio di San Giuseppe rendiamo testimonianza al tuo amore e godiamo i frutti della giustizia e della pace per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi e con il tuo spirito benediciamo il Signore rendiamo grazie a Dio salve o dolce Vergine salve o dolce Madre in te solta tutta la terra e i cori degli angeli tempio santo del Signore gloria delle vergini tu giardino del paradiso suavissimo fiore tu sei il trono altissimo tu alattara purissimo in te solo sta tutta la terra te veni piena di grazia paradiso mistico fonte sigillata il Signore in te germoglia l'albero della vita o sovrana semplice o potente umile apri a noi le porte del cielo don a noi la pace e la stella a noi le porte del cielo con il suo compito per Cristo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.